La memoria, la speranza e il discernimento del momento. Intorno a questi punti si è dipanata la meditazione che Papa Francesco ha rivolto ai parroci e ai sacerdoti della Diocesi di Roma, incontrati nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Dopo aver confessato alcuni dei presenti, il Pontefice ha offerto diversi spunti di riflessione per questo tempo di Quaresima, mettendo a fuoco il tema Il progresso della fede nella vita del sacerdote. Crescere nell'abbandono fiducioso al Signore, che è sempre fedele, percorrendo lo stesso cammino di tentazioni e di fallimenti che fece Simon Pietro, vuol dire anzitutto collocarsi nella storia, fondando ogni azione sul perno della croce. L'essere radicati in un punto, come fa il giocatore di basket per difendere la palla e poi magari mandarla a canestro, significa andare sempre alle radici e da lì guardare con speranza al futuro, perché la nostra non è una fede davanti al muro, ma è una fede che si apre alle sorprese di Dio. E se la speranza è l'ancora ancorata nel cielo, il discernimento è ciò che concretizza la fede, ciò che la rende operosa per mezzo della carità. A tutti i presenti, Papa Francesco ha rivolto parole di incoraggiamento, invitando a camminare nella fede per portare a compimento la propria esistenza, senza rimanere formati a metà. Una cosa è chiara, la tentazione sempre è presente nella vita di Simon Pietro e la tentazione sempre è presente nella nostra. Di più, senza tentazione non si progredisce nella fede. Padre nostro chiediamo la grazia di non cadere, ma non di non essere tentati. A me piace ripetere che un sacerdote è un vescovo che non si sente pecatore, che non si confessa, si chiude in sé, non progredisce nella fede. Grazie. 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 Grazie.